Exoraptics, state cercando una station wagon moderna, comoda da guidare e perfetta per la famiglia? Allora vi presento questa Skoda Octavia in allestimento executive. 1.16 cilindrata, 115 cavalli, alimentazione e diesel. Stiamo parlando di un veicolo aziendale, ha avuto un unico proprietario precedente e l'ha tenuta veramente benissimo. Come tutte le nostre autovetture ha superato il test dei 150 punti di controllo svolto dai nostri automotive expert. Il colore è grigio quarzo metallizzato e queste linee di forza sul cofano la rendono veramente dinamica ed esplosiva. Bellissima anche la mascherina con il contorno cromato e il gruppo ottico fragmentato. Lateralmente si presenta come una classica station wagon, molto dinamica e ricca di dettagli come gli specchietti bicolor e le barre al tetto. I cerchi sono da 16 pollici in leghe multirazza. Posteriormente il vetro dell'1.8 si presenta molto ampio, veramente super safe assieme anche ai sensori di parcheggio. Il bagagliaio è veramente ben strutturato, è veramente veramente ampio e troviamo al suo interno una presa da 12 volt, due comode tasche e la luce di cortesia. La soglia di carico è veramente poco profonda, perfetta per poter utilizzare tutto lo spazio a disposizione. Partiamo da una capacità di 610 litri ma abbassiamo i sedili frazionabili per arrivare fino a 1740. Passiamo ora al lato posteriore. Le sedute sono total black ed in tessuto, veramente carino il design che si ripete. Sono presenti anche gli attacchi Isofix. E lo schienale del passeggero centrale è ribaltabile così da avere un comodo poggiabraccio porta bibite e soprattutto un accesso al bagagliaio per poter caricare oggetti di lunghe dimensioni. Come potete vedere lo spazio è veramente ampissimo, perfetto anche per chi ha dei bambini, comode le tasche e porta oggetti. E sul tunnel centrale che è rialzato ma pochissimo possiamo trovare un comodo vano porta oggetti e le bocchette di aria azione. Passiamo ora al lato anteriore. I sedili sono sempre in tessuto ma si arricchiscono di moltissimi sostegni laterali e lombari. L'interno delle portiere e la plancia sono veramente eleganti con questi piccoli dettagli cromati. A volante possiamo trovare i comandi per la regolazione del volume, dei comandi vocali e delle chiamate ma accendiamola subito insieme per scoprire che ha percorso 77.000 km. E soprattutto prova claxon. Al centro possiamo trovare le bocchette di aria azione proprio sopra lo schermo dell'infotainment. Infotainment è veramente ricchissimo dove potremmo gestire la nostra radio, i media collegando il nostro smartphone tramite bluetooth, cavo o applicazioni, le chiamate, l'assistente vocale ed il navigatore satellitare. Comodissimo! Poi abbiamo appunto le applicazioni MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto, le impostazioni del nostro veicolo e quelle di sistema. Più sotto troviamo il climatizzatore che è B-Zona. Infine al centro possiamo trovare il cambio che è manuale, una presa da 12 volt, dei poggiabibite e soprattutto il freno di stazionamento. Ora possiamo toglierlo e partire. Se quest'auto ti è piaciuta allora corri sul nostro sito rattiauto.com e potrai bloccare queste e moltissime altre auto dei tuoi sogni con soli 100€ senza impegno. Prenotare una videocall con i nostri sale oppure la portiamo noi direttamente a casa tua. In tutta Italia in soli 7 giorni con garanzia europea e igienizzazione. Ricordati che hai sempre 14 giorni per il recesso e seguici su tutti i nostri social. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!